C'è tempo fino a sabato per visitare la mostra con i piedi per terra, organizzata dalla delegazione FAI di Sondrio insieme al Comune di Morbegno e ospitata negli spazi del Chiostro di Sant'Antonio. La mostra documentale, che si è aperta l'8 gennaio e ha accolto la visita di numerosi gruppi di studenti del Morbegnese, è dedicata al suolo e al consumo di suolo della provincia di Sondrio, con particolare attenzione alle realtà di agricoltura biologica nell'ambito del progetto Interreg SimBioval. Il progetto tratta infatti di agroecologia e agricolture organiche e punta l'attenzione sul territorio alpino, proprio per raggiungere la conversione all'agroecologia come strumento di gestione del territorio che favorisce l'immagine dei prodotti, la loro tipicità, il paesaggio, l'ambiente e l'attrattiva turistica, ma anche per fare fronte alla vulnerabilità idrogeologica. A fianco dei pannelli che illustrano dati e caratteristiche sia del consumo di suolo sia della filiera agrobiologica della provincia di Sondrio, la delegazione sondriese del Fondo per l'Ambiente Italiano ha voluto inserire nell'esposizione ospitata al Chiostro di Sant'Antonio anche tre mostre fotografiche dedicate alla frana del Ruinon, alla tempesta vaia che ha colpito il nord-est italiano nel 2018 lasciando a terra milioni di alberi e all'alluvione in Liguria. La mostra è aperta ogni mattina dalle 10 alle 12.